. Uomini e donne News, Camilla è incinta? Ecco la verità della Mangiapelo VinZuiden. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne Camilla Mangiapelo sarebbe incinta, ecco la sua risposta a riguardo. Alcuni personaggi passati del programma di Uomini e donne, ogni tanto tornano a far parlare di sé. Tuttavia, però, in questo caso ad alimentare il gossip sulla coppia formata da Cancelletto Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi ci ha pensato Cancelletto Francesco Chiofalo, ex concorrente dell'edizione passata di Temptation Island. . Questultimo infatti, nelle ultime ore tramite le sue pagine social ha comunicato che una fidanzata di Temptation aspetta un bambino barra A, naturalmente questo messaggio vista la fine delle storie delle coppie, poteva essere indirizzato solamente a Camilla o Francesca Baroni, fidanzata di Ruben. . Questa notizia riportata da Francesco sarà vera oppure l'ha fatto per attirare l'attenzione su di lui? Scopriamolo assieme nel proseguo dell'articolo. Francesco Chiofalo svela, una delle fidanzate dell'ultima edizione di Temptation Island e incinta. . Questa dichiarazione di Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia e concorrente di Temptation Island, ha fatto incuriosire moltissimo il popolo del web. . Infatti, subito i molti fan del programma estivo hanno iniziato a domandarsi chi potesse essere questa fidanzata, tuttavia, tolte tutte le coppie che si sono lasciate durante il programma, le uniche a rimanere sono Francesca Baroni e Camilla Mangiapelo. . Quest'ultima, infatti, dopo aver sentito la notizia messa in giro da Chiofalo si è molto infastidita, rispondendo in modo anche abbastanza duro all'ex di Selvaggia. Uomini e donne gossip, Camilla confessa di non essere incinta. . La giovane ex corteggiatrice bionda di Cancelletto Uomini e Donne una volta venuta a sapere di questa falsità messa in giro da Francesco ha voluto replicare duramente, no guarda Franche, Riccardo ha detto che ti vogliamo bene lo stesso. . Io in realtà neanche ti conosco, se ti ho visto mezzavolta nella mia vita è tanto. Io ho un legame molto bello con Selvaggia e non di certo con te. . Quindi cerca di rispettare le persone, anche perché così non guadagni più seguaci. . Camilla è molto polemica e dura nei confronti di Francesco Chiofalo, ma conclude il suo messaggio così, detto questo, non sono incinta. E quando lo sarò, se avrò voglia di comunicarlo, lo farò. . Quindi, con questo intervento abbastanza deciso della fidanzata di Riccardo, lex di Selvaggia è stata zittito e smentito per bene. Se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie sul mondo dello spettacolo e programmi tv, vi invitiamo a cliccare il tasto Segui in alto, accanto al nome dellautore dellarticolo. .